Gentili telespettatori, buona giornata. E così Signorini porta in tribunale i gossip del fatto quotidiano il direttore di Chi, Querela Travaglio, mai ricevuto favori dal ministro San Giuliano. Sapete che il fatto aveva insinuato che Signorini, direttore di Chi, aveva comprato le foto che ritraevano San Giuliano e la boccia, le aveva comprate per fare un favore a San Giuliano visto che San Giuliano aveva già fatto un favore a lui, quindi era un favore di contraccambio. Tu mi hai fatto un favore e io te ne faccio un altro e poi il fatto quotidiano aveva poi anche detto che questo favore probabilmente si riferiva a una rappresentazione della bohème avvenuta all'Arena di Verona dove l'affidamento della regia sarebbe stato dato proprio a Signorini. Va bene, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.